Si può guardare, fortunato che ti do, che da lui si può guardare, fortunato che ti do, che da lui si può guardare, si può guardare, si può guardare, si può guardare. Accompagnate dal coro polifonico, le voci del Borgo e dall'orchestra del CSA Music Festival, le aree del melodrama giocoso di Donizetti, l'Elisir d'Amore, sul libretto di Felice Romani, hanno incantato l'attento e folto pubblico intervenuto sabato e domenica scorsi nel Giardino delle Clarisse a Città Sant'Angelo. Il concerto lirico, arricchito dalle scenografie ideate e realizzate dall'attenta regia di Stefania Grazioli, è stato magistralmente diretto dal maestro Alessandro Mazzocchetti con l'orchestra del Città Sant'Angelo Music Festival. Le scene di costumi sono stati curati rispettivamente da Tanasio Mattucci e da Greta Salvi. La civettuola Dina è stata interpretata dal soprano russo Nina Solodovnikova, ritenuta una delle voci più talentuose del panorama lirico nazionale, mentre Shinichiro Kawasaki ha dato voce al disperato Nemorino. Il tronfio belcore è stato interpretato da Ettore Kim, mentre il taumaturgico Dulcamara dalla voce di Gustavo Castillo. Jessica Liberatore ha vestito i panni dell'intraprendente Giannetta. La stagione, voluta dal giovanissimo e talentuoso direttore Alessandro Mazzocchetti, in collaborazione con la Fondazione Nicola Polidoro e l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, ha trovato con l'allestimento di una delle più celebri ed affascinanti opere di Ghetano Donizetti uno dei momenti più convolgenti ed entusiasmanti. Per la prima volta al Città Sant'Angelo Music Festival, un'edizione interamente dedicata all'opera, con il titolo di Opera Edition, quindi quest'anno l'Elisir d'Amore è il titolo che viene messo in scena dal CSA Music Festival. Siamo molto contenti innanzitutto del risultato di pubblico, del riscontro del pubblico, in quanto abbiamo ottenuto sold out alla prima e sold out alla seconda rappresentazione. Questo ci rende orgogliosi, ci rende felici del lavoro che stiamo svolgendo sul territorio da ormai quattro anni e speriamo che tutta la manifestazione, l'Oper Edition in particolare, possano andare avanti e crescere sempre di più.